Big Yellow Taxi come i grandi taxi gialli di New York, infatti proprio lì noi siamo arrivati e salutiamo la nostra amica, la Wine Consultant, Alessandra Rotondi. Ciao Ale! Ciao Patti, ciao a tutti! Allora, com'è il tempo dalle tue parti innanzitutto? Allora, piove, veramente piove, il diluvio universale. Bene, ti consolerà il fatto di sapere che qui invece si schiatta dal caldo, ma immagino che anche a New York la temperatura non sia esattamente clemente. No, anche perché dopo la pioggia c'è chiaramente la punizione, quindi l'AFA scoppierà di nuovo. Certo, la nostra telefonata è per raccontare qualcosa che succede se non sbaglio domani, giusto? Domani, domani, tutti quelli che sono a New York, ma io verrei apposta per l'occasione, domani dalle 6 fino a notte inoltrata ci sarà un grandissimo party, si chiama Made in Italy. Allora abbiamo parlato tante volte del Made in Italy, questa volta Made in Italy significa un'altra cosa. Significa festa, festa organizzata da due ragazzi che sono famosi appunto per il Made in Italy che hanno creato nel 2004. Sì. Sto parlando di due italiani, quindi, veramente Francesco Mo e Francesco Belcaro, che tutti qui a New York conosciamo e adoriamo, e si sono inventati di fare queste feste dal 2004 e le fanno nei posti migliori della città, quindi domani ce ne sarà un'altra presso il Soho Grand Hotel, anche per festeggiare Francesco Belcaro, il suo compleanno. Ah, ok. Made in Italy significa gran divertimento, musica, ingresso gratuito, all night long, grande musica appunto, si balla, ci si diverte, si mangia e anche Made in Italy italiano perché è una gastronomia italiana che viene servita, come domani ci saranno i vini, i vini Zonin, la Parma Cotto, Ferrarelle che partecipa, è una grande festa dove partecipano, questo è importante, non solo gli italiani, ma tutti i new yorkesi, diciamo tutti i giovani, ma non giovani anagrafici, giovani di testa. Certo, certo. Diciamo un migliaio di persone. Caspita, ma Ale può veramente presentarsi chiunque? Sì, sì, chiaramente ci sarà un pochino di fila, però è un grande happening, è incredibile vedere come dal lavoro di due persone, che adesso chiaramente hanno un team accanto di molti altri, c'è il DJ Roby, c'è il PR Davide, alla batteria e percussioni Marco, Michi, che sta anche lei alle PR, ma tanti tanti altri, hanno creato veramente una sorta di miracolo, perché riescono a fermare la città di New York e a farla divertire. Fantastico. Ci vuole incontrare, diciamo, amici, anche l'occasione per salutarsi prima delle vacanze domani. Certo, è un bellissimo, un bellissimo momento di grande aggregazione. Perfetto, grazie per averci segnalato, perché magari ci sono dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando via internet e sono a New York, ragazzi, presentatevi. Maggiori informazioni su made in Italy, nyc.com. Perfetto. Grazie a te, le info lì. Magnifico, grazie ad Alessandra Rotondi da New York City. Ciao bella. A presto, ciao, bye. Ciao. I hope you're inside. A presto. A presto. A presto. Mh... 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 When... You walk...